Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con il notiziario AC News di Arezzo Channel dedicato all'Arezzo Calcio e ai suoi campionati. Apriamo subito l'edizione di quest'oggi dando uno sguardo all'attualità. Prosegue infatti il tira e molla legato alla questione dei ripescaggi al format della Serie B che vede nuovamente schierarsi in prima linea Siena, Ternana, Provercelli, Catania e Novara. All'indomani della trasformazione in legge del decreto Salvini, cinque club coinvolti nel blocco dei ripescaggi hanno infatti presentato un nuovo ricorso al Tar del Lazio contro i provvedimenti presi quest'estate dall'ex commissario della FIGC Fabricini. Il ricorso depositato al Tar ieri mattina chiede infatti l'intervento dei giudici amministrativi per ripristinare la B a 22 squadre. Sembrano ovviamente essere remote le possibilità che il ricorso venga accettato. In caso di bocciatura le cinque società si dichiarano comunque pronte a rivolgersi al Consiglio di Stato. La sentenza è comunque attesa nei prossimi giorni. Situazioni a parte sono invece quelle della Viterbese e della Virtus Entella, sulle quali non si hanno ancora indiscrezione. La soluzione anticipata dai due club prevede la riammissione nel torneo cadetto della società chiavarese, poi il passaggio nel girone A della Viterbese. Qualora non dovesse arrivare celermente comunque una decisione, le due squadre potrebbero già tornare in campo domenica prossima, il 28 di ottobre, come sancisce appunto l'ordinanza della Lega Pro. In attesa che sia definitivamente risolta questa questione, la Serie C torna in campo anche oggi. Si giocheranno infatti questa sera i recuperi della prima giornata di campionato, giornata che peraltro la Virtus Entella ha giocato contro il Gozzano. Questa sera alle ore 20 e 30 il Novara quindi scenderà in campo tra le mura dei Granata del Ponte d'Era, la Pro Piacenza ospiterà i bianconeri del Siena, mentre il Piacenza disputerà la gara in casa della Pro Vercelli che resta attualmente la squadra con più partite da recuperare dopo ovviamente l'Entella. Proprio Pro Vercelli e Pro Piacenza in caso di vittoria potrebbero rilanciarsi in classifica con 13 punti ai piani nobili, malgrado appunto la loro condizione di svantaggio. Si è svolta ieri pomeriggio presso la sala stampa dello stadio Città di Arezzo la presentazione del nuovo accordo commerciale che la società sportiva Arezzo ha firmato con il gruppo UbiBanca in merito al settore giovanile Amaranto. Una sponsorizzazione che ricade a favore della Under 15 la quale dal prossimo weekend potrà affrontare la propria avventura in campionato con un alleato in più. Guardiamo insieme il servizio con le dichiarazioni di Silvano Manella il responsabile di UbiBanca per la macroarea Lazio, Toscana e Umbria. Creare una nuova sinergia utile al futuro del settore giovanile Amaranto. È questo il fine del nuovo accordo di sponsorizzazione siglato dall'SS Arezzo con UbiBanca. Il gruppo bancario che sta mettendo radici nel territorio aretino ha infatti sposato il progetto del vivaio Amaranto e nello specifico sarà presente con il proprio marchio sulle maglie della formazione Under 15 allenata dal tecnico Massimiliano Bernardini per la stagione 2018-2019. UbiBanca lega il proprio nome alle giovanili dell'Arezzo. Sì, questa decisione di partire dai giovani è perché UbiBanca, giovane anche lei, sul territorio nel senso che siamo arrivati il 10 maggio del 2017 e ci crediamo nei giovani. I giovani stiamo facendo tantissimo su questo territorio, l'ho detto prima nella conferenza stampa dove attraverso FEDUF stiamo portando nelle scuole l'educazione finanziaria affinché i nostri giovani possano crescere in maniera, oltre che dal punto di vista sportivo, in maniera sana ma anche dal punto di vista dei comportamenti. Una sponsorizzazione che al momento si lega alla formazione Under 15 ma che poi passo per passo comunque cercherà di crescere insieme alla società. Questo è il momento e la partenza è legata all'Under 15, poi l'evoluzione futura questo si vedrà. Perché investire sui giovani? Perché rappresentano il nostro futuro, senza i giovani, giovani che crescono in maniera sana sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista comportamentale serve a poco, pertanto è da lì che dobbiamo partire e da lì che dobbiamo investire. Abbiamo visto il servizio della nuova sponsorizzazione di UbiBanca per il settore giovanile Amaranto, termina qui la prima parte di AC News, torneremo a parlare più tardi del settore giovanile dell'Arezzo, intanto ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e dopo ci ritroviamo per il secondo blocco di AC News insieme ad un ospite. Restate con noi.